Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming. Benvenuti su Destiny 2 in questo nuovissimo videoguida in cui voglio mostrarvi come poter completare l'impresa esotica a rapporto esca invertita e ottenere così i tre falcioni esotici introdotti con la regina dei sussurri. Come ben saprete questi tre falcioni sono legati alle tre classi stregoni, cacciatori e titani e tramite quest'impresa esotica completabile soltanto una volta potrete ottenerne uno di questi tre. I restanti due andranno tra virgolette farmati. Non preoccupatevi però più avanti nel video vi spiegherò anche il come. Innanzitutto partiamo dai requisiti. Per poter ottenere e completare quest'impresa esotica dovrete aver completato la campagna della regina dei sussurri e aver sbloccato l'attività sorgente che potrete tranquillamente sbloccare al termine della campagna completando un breve incarico introduttivo. A questo punto andando su Marte nell'enclave e dirigendovi sulla destra verso la bacheca delle prove troverete tutta una serie di incarichi chiamati rapporti. Il primo è quello esotico e che ricompenserà chiaramente con il falcione esotico. Per poterlo ottenere però bisognerà completare tutti i restanti. Adesso non entro nello specifico di ogni singolo rapporto per il semplice motivo che sono davvero semplici, molto ben spiegati e sono convinto che non vi servano ulteriori indicazioni. L'unico punto che voglio darvi riguarda il rapporto reliquie dati perché nel secondo step chiederà di forgiare due armi ben precise, ovvero l'accadimento, il fucile automatico e dannazione il lancia granate. Per poter forgiare queste due armi però vi serviranno i modelli, che come vi ho spiegato nella mia guida al crafting la trovate sul canale, i modelli delle armi possono essere ottenuti soltanto droppando le armi in questione con la risonanza della vista profonda attiva. E per entrambe queste armi dovrete completare due risonanze. E qui arriva la parte insidiosa, queste due armi si possono ottenere soltanto come ricompensa di fine attività nella modalità sorgente, dove le ricompense vanno a rotazione, e queste due sono in due giornate differenti, e dove il drop non è nemmeno garantito. Quindi dovrete vedere di giorno in giorno che arma c'è in rotazione e se dovesse esserci l'accadimento o il dannazione dovrete continuare a completare l'attività fin quando alla fine non ne otterrete due con la risonanza della vista profonda. Per intenderci a me sono serviti circa 12 completamenti. Tolto questo piccolo punto non dovrete avere alcuna difficoltà. Una volta completati tutti questi rapporti potrete prendere il rapporto esca invertita, quello dell'arma esotica, che vi richiederà di prendere il frammento lì presente, portarlo presso le mura della regina nel punto indicato, far arrivare i nemici, inseguirli, ucciderli tutti e molto banalmente poi tornare nelle enclave su Marte, consegnare la missione e recarsi poi presso la reliquia per poter forgiare il nuovo falcione esotico e il primo che otterrete sarà ovviamente quello legato alla classe che state utilizzando. Per poter ottenere gli altri due, cosa che comunque è scritta in gioco, dovrete con le altre classi giocare la modalità sorgente e avrete una possibilità di dropparlo come ricompensa di fine attività. Ragazzi per quanto riguarda questo video guida sul come ottenere i falcioni esotici è tutto. Come al solito vi ringrazio per la vostra attenzione, spero il video sia stato di vostro interesse e vostro gradimento e se così fosse vi invito a lasciarmi un mi piace, un commento ed iscrivervi se ancora non l'aveste fatto. Io vi saluto e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!